Questo meraviglioso quadrilatero greco-romano lo vediamo sempre come una sorta di percorso, cioè in qualche modo i turisti passano, camminano, non lo vivono come dovrebbe essere vissuto. In queste strade hanno questi meravigliosi cortili, i palazzi meravigliosi, in qualche modo sono mondi, chiusi, perché non immaginare questi cortili averti, la possibilità quindi di vivere lo spazio e non correre da un lato all'altro. Un'immersione nell'anima di Napoli, in quella sua architettura che Walter Benjamin definiva porosa, come il tufo su cui sorge, con loggiati, archi, cortili e giardini nascosti. La prima edizione di Aperture, rassegna indipendente di arte contemporanea, vuole essere questo, reinterpretare la relazione di Napoli con i suoi luoghi storici o culturalmente significativi. Col patrocinio del Comune di Napoli, questa operazione di rigenerazione urbana comincia con Memini, una inedita installazione performativa site specific realizzata dall'artista pesarese Gianluca Panareo, visibile il 9 e 10 giugno nei magnifici spazi di Palazzo Marigliano in via San Biagio dei Librai, luogo troppo spesso nascosto ed oasi piena di storia. Far vedere che in questi palazzi, oltre a una grande memoria, c'è anche una vita che riprende, fatta di creatività, anche di innovazione, di arte, insieme alla storia, dall'idea appunto, come questo palazzo ha più volte rappresentato emblematicamente, di una città che sa ritrovare la via della riscossa anche in momenti che sembravano molto difficili e addirittura incommeva lo spettro del declino. Quindi questa riscossa attraverso le aperture sul futuro, facendo leva sulla grande tradizione, sulla grande storia di cui siamo eredi, viene tutto ciò trasfuso nei prossimi giorni qui in questo palazzo, anche in installazioni molto innovative che hanno saputo legare insieme l'innovazione tecnologica e i materiali che l'arte ci ha consegnato. Quindi invito tutti i cittadini a varcare le soglie di questo palazzo e da questa esperienza trarre l'idea di moltiplicare le aperture.